buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video oggi mi è appena arrivato un pacchettino nuovo da wish quindi scusate per le mie mani sono coggiatissime sto facendo un bocchino di cose in questi ultimi giorni e quindi bando alle ciance andiamo subito a vedere che cosa mi è arrivato da wish wow 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 allora sono queste perle bellissime mi piacciono un sacco guardate aspettate guardate tutt'è al cobaleno bellissime e queste sono 300 e sono bellissime guardate che belle tutte viola blu, verdi, chiaro, verde, scuro rosa, fucsia bellissime bellissime e niente questo era il pochettino che mi è appena arrivato e noi ci vediamo al prossimo acquisto eccoci qui con questo nuovo pacchettino che mi è appena arrivato da wish l'ho già aperto e vediamo cosa mi è arrivato oh sì che bello allora praticamente sono tutti questi componenti per fare dei portaciucci adesso li apriamo prima tagliando qualcosa mi serve ho togliato anche la busta vabbè e andiamo a vedere allora sono parecchi e ci sono queste perline oh in legno sono tutte in legno queste cose queste così questo quadrato questo fatto così un altro quadrato rosa altre due perline e basta e poi ci sono aiuto ci sono le stelline vedete vedete sono delle perline c'è questa qua viola c'è bianca poi c'è azzurra e basta sì basta poi ci sono i fiorellini con i disegnini che carini e ce ne sono solo questi due sì poi c'è il cuore questo grande poi quelli un po' più piccolini una farfallina un altro fiorellino e la farfallina è con i decori e abbiamo altre due farfalline così poi abbiamo un fiocchettino e mettiamo da parte e abbiamo altri cuoricini con le ancore per i maschietti in questa maniera anche in rosa poi abbiamo le coroncine molto carine e poi sempre con la coroncina abbiamo questo cerchietto da tutte e due le parti poi abbiamo questo della principessa questo del principe di tutti questi colori e poi abbiamo una coroncina rosa poi abbiamo un connettore chiamiamolo così rosa e abbiamo due palloni e questi con tutti i piedini tutti colorati molto molto carini e mi pare di averli pagati due o tre euro nel senso una sciocchezza perché ho visto dei siti anche italiani e stranieri che rivendevano questo tipo di materiale e solo uno così costava tipo un euro o 80 centesimi quindi magari non sono perfetti perfetti ma come io direi che come qualità e prezzo è buona se riesco molto presto vi farò vedere un tutorial come realizzare un portaciuccio con ovviamente questo materiale visto che adesso mi è arrivato e niente ditemi quale vi piace di più se lo volete acquistare anche voi iscrivetemelo qua sotto che vi lascio il link spero che questo breve video di acquisti vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like molto presto arriveranno tante tante belle cose iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video condividete questo video con i vostri amici se vi va e noi ci vediamo alla prossima vi mando un bacio un abbraccio ciao